Perchè mi hai rapito? Vuoi aiutarmi a stringere un accordo? Perchè sai, io credo che il regno di Lagherta a Kattegat abbia i giorni contati e io ambisco ancora a governare lì. Ho ancora intenzione di diventare re di tutti i norreni. Ciò significa che devo conquistare Kattegat prima di qualsiasi altro regno, ma non sono ancora sposato. Mi serve una regina. Devo procreare e mettere al mondo dei figli. Quindi vuoi che io sia la tua regina? Perché no? Tu devi capire una cosa. Lagherta è stata generosa con me e io le devo tutto. Quindi è impossibile che accetti di sposarti con me? Esatto. Anche se questo significherebbe diventare regina dei norreni. La donna più invidiata e potente di tutto il regno. Dimmi onestamente Astrid, non ti alletta per niente l'idea. Non senti il tuo sangue scorrere nelle vene un po' più, velocemente. I tuoi occhi non brillano un po' di più. O forse ti ho giudicata male. O forse ti ho giudicata male.